Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Gregory Alpinisto 35 litri, lo zaino di Gregory pensato per alpinismo e sci-alpinismo con delle feature molto molto interessanti, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dal peso. Questo Gregory Alpinisto, completamente completo, e poi capiamo perché vi sto dicendo questo, pesa 1,6 kg, un peso siccome è congruo, come zaino d'alpinismo a 35 litri, ci può stare, considerato che molti zaini vanno anche attorno ai 2 kg, ci può stare. Pensate che se poi andiamo a spogliarlo completamente, poi vi farò vedere come fare durante la recensione, arriva a pesare solamente 500 grammi. Iniziamo come al solito a parlare della parte anteriore, dello schienale. Qua troviamo uno schienale pensato per l'alpinismo, naturalmente, ovvero non abbiamo retine, non abbiamo niente che faccia traspirare la nostra schiena. E questo si sente, nel senso che comunque essendo uno zaino di questo tipo fa sudare parecchio, ma non così tanto rispetto ad altri zaini d'alpinismo, perché comunque il materiale con cui è fatto tende ad assorbire abbastanza il sudore e poi a espellerlo lateralmente. Quindi, pur essendo uno zaino d'alpinismo, la sudorazione non è eccessiva. Allora, scendendo poi arriviamo a parlare della fascia lombare. Fascia lombare che si può togliere, quindi se dovessimo utilizzare, ad esempio, un imbrago e non vogliamo una fascia lombare, possiamo toglierla. Fascia lombare molto comoda, che scarica molto bene il peso. Addirittura Gregory dice che potremmo portarci fino a 20 kg con questo zaino e non andrei oltre i 12-13 kg. Soprattutto poi sulla fascia lombare, sulla destra, troviamo una piccola taschina da andare a riporre, ad esempio, il telefono. E nella parte sinistra, invece, troviamo un attacco dove potremo andare a riporre dei moschettoni, qualche rinvio o roba comunque che ci può servire durante una scalata. Per quanto riguarda poi la chiusura sul davanti, è molto ben progettata questa clip, davvero vi assicuro che anche a pieno carico non si apre. E soprattutto mi piace il fatto che possiamo andare a nascondere il cordami in eccesso all'interno della tasca, in modo tale da non averlo davanti che ci sballonzola. Come potete vedere, questo schienale poi ha una forma un po' particolare. Questa è la tecnologia Fusion Flex di Gregory, che praticamente ci permette di poter utilizzare lo zaino senza che sia ingombrante. Noi possiamo andare a utilizzare tutta la parte delle spalle, tutte le parti delle braccia, soprattutto anche con dei movimenti molto ampi, facendo sì che lo zaino non ci ingombri, facendo sì che lo zaino non risulti eccessivamente grande. Questo è molto d'aiuto, soprattutto nel momento in cui magari dobbiamo andare a piegare una corda, magari dobbiamo andare ad alzare le braccia un po' per arrampicare. Quindi questa tecnologia davvero mi è piaciuta molto. A livello di spallacci poi, questi sono molto piccoli, davvero molto piccoli, però ben imbottiti. In sé poi lo spallaccio performa bene, non fa sudare, scarica bene il peso sulle nostre spalle, quindi lavora davvero bene. Per quanto riguarda la chiusura sul davanti, anche questa lavora bene, classica, che si chiude, abbiamo il fischietto, quindi molto classica. Concludendo tutta la parte per quanto riguarda lo schienale, vi racconto che questo sta molto fermo, non ci sbilancia, anche a pieno carico, quindi una distribuzione dei pesi molto buona da parte di Gregory. Continuando, arriviamo ad analizzare la prima parte laterale. Qui cosa troviamo? Nella parte inferiore troviamo una grossa fettuccia dove poter andare a infilare dentro lo sci per trasportarlo. Salendo abbiamo due seconde fettucce, una che non si può aprire, si può solo andare a tirare nella parte bassa, e una invece che si può aprire nella parte superiore. Io qua ci ho portato delle ciaspole, anche abbastanza grosse, e non ho avuto nessun problema, soprattutto ho apprezzato molto il materiale con cui ho fatto lo zaino, perché avendo portato le ciaspole con la ramponatura da questa parte sul materiale, come potete vedere, non ha nessun tipo di abrasione, quindi anche il materiale con cui ho fatto lo zaino è davvero buono. Concludo parlandovi di questa parte dello zaino, dicendovi che qua in basso, chiusa da questa fettuccia, c'è la possibilità di andare a riporre la borroccia. Continuiamo, arriviamo a parlare della parte posteriore, che qua ci sono le chicche più interessanti. Allora, innanzitutto nella parte inferiore, come potete vedere, abbiamo questi due clip che si possono aprire per andare a trasportare o due piccozze, da una parte e dall'altra, e la parte superiore lo andiamo a infilare dentro la fettuccia laterale, oppure anche due bastoncini. Io ho dovuto portare una piccozza e un bastoncino e non ho avuto nessun problema, soprattutto mi piace che ci sia anche una clip qua in basso per poterla andarla a fissare. Questo ci assicura davvero di non perdere il materiale che andiamo a portare. Salendo, nella parte superiore troviamo una tasca molto interessante, perché qua possiamo andare a riporre il rampone. Fatta in materiale anti abrasivo, naturalmente, perché altrimenti si andrebbe a rompere. Io l'ho trovata molto funzionale, soprattutto in quei passaggi dove magari dobbiamo andare a mettere e togliere molto velocemente il rampone. Davvero, bella studiata, studiata molto bene. Poi, se non dobbiamo portare il rampone, ad esempio io ci ho messo dentro un secondo strato, ci ho messo dentro un cappellino, quindi può essere utilizzata anche come tasca normale. Anche perché poi, come potete vedere, nella parte superiore questa si va a chiudere col cappuccio, quindi anche se andiamo a mettere qualcosa che non sia il rampone, non andiamo a perderlo. Continuando, parliamo dell'ultima parte laterale. Qui troviamo, nella parte bassa, la stessa fettuccia per gli sci. E alla parte superiore, anche qua, le due fettucce che abbiamo visto dall'altra parte. Ma qual è la differenza? Non abbiamo la zona dove poter andare a mettere la borraccia dell'acqua, ma abbiamo questa zip che ci permette di aprire completamente lo zaino sul laterale. E io questa zip l'ho trovata davvero molto ben fatta, soprattutto nei materiali, per quanto riguarda la zip. E dal punto di vista dell'idea, mi è piaciuto molto. Perché comunque le possiamo andare a recuperare all'interno del materiale senza tanti problemi, soprattutto anche magari del materiale messo in basso. Vi assicuro, io alla fine, quando facevo le escursioni, andavo a riempire lo zaino dalla parte superiore la mattina, prima di partire. E durante il giorno quello che avevo bisogno lo recuperavo dalla parte laterale, senza dover andare ad aprire completamente lo zaino. Soprattutto se magari sopra abbiamo messo casco o corda. Quindi davvero zip promossa, davvero molto promossa. Ma visto che ve ne parlavo, vi cito la parte superiore. Qui abbiamo un classico cappuccio composto da due tasche. Quella esterna molto grossa, ci sta davvero molto materiale. Con l'interna un pochino più piccola, con anche un portachiavi. Il cappuccio si può togliere completamente, quindi possiamo anche lasciarlo a casa. Per quanto riguarda poi la chiusura dello zaino, abbiamo due classici cordili da andare a tirare. Uno fa sì che lo zaino si comprima un pochino se non è completamente pieno. E l'altro chiude proprio la parte superiore. Come vi dicevo all'inizio però, questo zaino si può anche spogliare. Cosa intendo dire? Noi possiamo andare a togliere la parte superiore del cappuccio. Possiamo andare a togliere la fascia lombare. Possiamo andare a togliere la parte rigida dello schienale. e anche il pad interno che viene dato in dotazione da Gregory per potersi sedere su superfici bagnate per non bagnarsi magari quando ci sediamo. E quindi completamente spogliato, alla fine questo zaino pesa solo 500 grammi. Quindi è utilizzato proprio come sacca singola. Ed è molto interessante questa feature. Se dovessimo fare qualche via veloce, magari non portando dietro tanto materiale, possiamo avere uno zaino decisamente leggero. A livello di materiali, come vi dicevo, mi ha convinto molto questo zaino. È un pochino idrorepellente, nel senso che se utilizzato sotto una pioggerellina leggera non si bagnerà quello che c'è all'interno. Poi naturalmente se inizia a nevicare o a piovere tanto, quello all'interno si bagna. Anche perché non troviamo in dotazione naturalmente un rain cover. Tiriamo dunque le conclusioni per questo Gregory Alpinisto 35 litri. Io personalmente ve lo consiglio. Mi ci sono trovato veramente molto molto bene. Tenete conto che ultimamente anche scontato lo si trova tranquillamente a 140-150 euro. Davvero io mi ci sono trovato molto bene. Mi sono piaciute le varie feature. Il colore è anche molto bello. Davvero come zaino più da alpinismo rispetto che da sci alpinismo. Io tendo a consigliarvelo. I materiali fatti bere... Davvero mi ha convinto questo zaino. Io l'ho utilizzato praticamente per quasi due mesi durante le mie uscite alpinistiche. E mi ha soddisfatto in tutte le varie uscite. Quindi consigliato. Di tutto ciò ragazzi. La speranza sia stato esaurante e esaurante anche per questo video. Vi ringrazio per averlo guardato. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao!